A proposito di Davide Di Gennaro, bentrovato a Rosennero al numero 10 del Palermo, grande protagonista a Padova, non soltanto per il gol del 1-0, ma soprattutto per questa occasione del calcio di rigore su un'azione personale di Mariani. Bentrovato Davide Di Gennaro, possiamo definirla così? Buonasera. L'azione personale di Mariani ti ha fatto un bell'assist, no? Ma diciamo che questi altri non sono ben accetti, nel senso che secondo me è il rigore, però hanno fatto un po' di polemica, noi ce lo prendiamo e siamo contenti di aver fatto questo risultato. E allora ti presento subito i nostri opinionisti e ti lascio ovviamente alle loro domande, alle domande della tribuna stampa, Salvatore Geraci che è responsabile delle produzioni sportive su TRM, poi Massimo Norrito, inviato e prima firma di Repubblica che salutiamo, ciao Massimo. Buonasera. Buonasera di Gennaro, complimenti per la prestazione di ieri e complimenti per la prestazione della squadra che ovviamente vi ridà serenità e tranquillità per poter continuare un lavoro che sarà molto lungo. Io le volevo chiedere una cosa personale, lei ha tanti anni di Milan, sembrava un giocatore predestinato, nel senso che ha fatto tutta la trafila nel Milan, è diventato capitano della Primavera, è sordito in Serie A con l'Udinese, è tornato a Milano e ha segnato un gran gol con la Regina, ha portato il Bologna in Serie A, insomma tutta una serie di situazioni che l'hanno portato ad essere uno dei giovani e dei giocatori più promettenti. improvvisamente però non è che la luce si sia spenta totalmente, però non ha avuto quelle soddisfazioni che poteva e doveva avere, considerate che poi ha fatto tutte le nazionali dai 16 anni fino a quelle più grandi. Le chiedo, è stata soltanto una coincidenza dovuta al fatto degli infortuni, è stato un fatto mentale o che cosa? Ma guardi, io dico sempre che ognuno ha ciò che si merita, nel senso che a questo punto della mia carriera mi ritrovo in Serie B perché probabilmente ho meritato di essere in Serie B a questo punto. Sono arrivato in Serie A giovanissimo, sono stato in due società che purtroppo a livello di squadra sono retrocesse e quindi a livello personale anche se ho fatto abbastanza bene, non sono venuto fuori. Però penso che avere un'occasione come Palermo a 25 anni in una Serie B per vincere, penso che la luce come se si fosse spenta adesso sia riaccesa. Penso che sia stata una vittoria netta, importante in trasferta e questo bisogna sottolinearlo perché vincere 3-0 a Padova non è semplice, quindi penso che vada dato merito alla squadra. Poi si può discutere della gestione della partita, magari in alcune fasi della partita possiamo e dobbiamo fare meglio, però stiamo parlando sempre di uno 0-3 in trasferta e quindi io penso sia stata data un'ottima risposta sul campo. Facciamo una prova con Paolo Vannini, prego Paolo. Buonasera Davide, in caso lo fai tu per interposto le persone. Ovviamente ci stavano due aspetti, abbiamo sempre parlato dell'apporto forte tra Gattuso e la squadra, ecco mi piacerebbe sapere da Di Gennaro che con Gattuso e se visto il momento del gol ha un ottimo rapporto, come carica, cosa dice Gattuso prima del match, durante il match, perché ancora è un aspetto che non abbiamo, avendo fatto soltanto 3 partite in panchina, che ha Gattuso in B, che non abbiamo ancora preciso. E l'altro è che significato ha il gesto di esultanza con la mano davanti la bocca che Di Gennaro ha fatto domenica a Patova, anche perché ci auguriamo di impararlo molto bene nelle prossime domeniche e vederlo sempre più spesso. Ma per quello che riguarda il mister, comunque fino all'anno scorso giocava, quindi ci parla da come se fosse un nostro compagno di squadra. È normale che essendo allenatore le dinamiche sono diverse da quando giocava, ma riesce a trasmetterci quella grinta, quella passione che l'ha sempre contraddistinto nella sua carriera. Per quanto riguarda l'esultanza, è il simbolo della lettera A, che è l'iniziale di mia moglie Alessia. Fortunatamente negli ultimi due anni l'ho fatto abbastanza spesso, speriamo di farlo spesso anche a Palermo. Io volevo farti tanti tanti complimenti perché mi è piaciuto moltissimo il tuo senso del saper tenere bene la posizione in campo e del fatto che riesci a inserirti fra le linee avversarie con i tempi giusti. È uno schema che avete provato in allenamento o è nel tuo DNA o è venuto istintivo? Questo è quello di inserirsi sulla ricerca della profondità. Il mio ruolo è quello, farmi trovare tra le linee per collegare centrocampo e attacco, quindi è quello che il mister ci chiede, proviamo in settimana. Ieri giocando anche con Paolo, dovevamo dare io e lui soluzioni di giochi centrocampisti e lasciare Abel in zona gol. Alcune volte ci è riuscito bene, alcune volte meno, ma ci sarà modo di fare sempre meglio. Ok, messaggi dei tifosi per Davide Di Gennaro e quindi Flavia, prego a te. Sì, Daniele Triolo chiede, Davide, quando hai presso il numero 10 di Maglia, all'inizio è tentennato perché non ti sentivi all'altezza di sostituire un nome come i Miccoli? Ma guarda, devo dirti in verità, prima che ci fosse stata questa cosa dell'asta è venuto Barreto in camera e mi ha detto che mi avevano segnato il 10, quindi questo mi ha inorgoglito molto perché è importante avere in primis della stima dei tifosi quella dei compagni, quindi è stato un bel gesto. Poi c'è stata questa cosa dell'asta e ho detto, ripeto, non potevo darla all'afferti, quindi l'ho presa io e è un numero, insomma. Non bisogna caricarlo di eccessive responsabilità perché se si fanno paragoni è sempre scomodo e sono troppo azzardati, quindi Fabrizio ha fatto la storia di questa società e io l'ho scelto, mi fa piacere, è un onore indossarla e cercherò di mettere la mia qualità al servizio della squadra. Davide, l'ultima e poi intanto ti ringraziamo per la disponibilità perché comunque insomma la giornata è stata abbastanza impegnativa. Onorito aveva suggerito una cosa, posso chiedere brevemente a Davide, i 500 euro che hai sborsato per la maglia, come ha detto Onorito, sono stati il prezzo più alto per un giocatore oppure qualcuno ha dovuto sborsare di più? Innanzitutto sono un po' più di 500 e poi sì, la maglia numero 10 è quella che diciamo costa di più, provoca sempre più alte, quindi è stato così in tutte le squadre dove sono andato e soprattutto a Palermo, è stata bella salata. Davide, l'ultima e poi ti salutiamo, diciamo giornata abbastanza impegnativa, poi insomma si gioca già venerdì sera contro il Cesena al Barbera, ti chiedo se nelle prime tre giornate di campionato di fatto avete accusato, se sì quanto, questo peso di essere il Palermo che fa tremare tutto il mondo, il Palermo che deve andare in Serie A a mani basse, il Palermo che ha la squadra più forte d'Europa, almeno per quanto riguarda la categoria di Serie B. Io penso che bisogna avere equilibrio, insomma, la Serie B, io parlo, ho abbastanza esperienza di questo campionato, arrivo da un'annata dove a Spezia l'anno scorso ci mettevano come corazzata del campionato e alla fine ci siamo salvate abbastanza tranquillamente, ma non è stato un campionato all'altezza delle aspettative, è un campionato lungo, livellato, dove bisogna avere continuità di risultati, questa è la prima cosa, dobbiamo cercare di far diventare il Barbera come il nostro fortino e questo dobbiamo iniziare da venerdì, è normale, siamo un gruppo nuovo quindi ha bisogno di vincere perché si sa che le vittorie portano mentalità vincente e tutte le distanze in campo, quindi io penso che uno stadio come il nostro, dei tifosi come i nostri debbano essere un punto di forza e non un punto debole, insomma, e penso che sicuramente sarà così. Quanto è difficile spiegare anche al pubblico in generale che comunque la Serie B è questa, cioè puoi vincere in trasferta, poi abbiamo visto in questa terza giornata comunque l'Empoli di pareggiare in casa con un ottimo Trapani, il Cesena però perdere, lo stesso Spezia perdere in maniera inaspettata contro il Carpi, cioè la Serie B è questa anche se sei la squadra più forte, possiamo dirlo abbastanza con fermezza? Assolutamente, io sono il primo a sperare di poter vincere 35 partite, ma questo lo metto per iscritto sarà impossibile, bisognerà invece avere una continuità di rendimento, quella sì, quella ti fa fare la differenza, restare nelle prime posizioni fino a febbraio, marzo e poi da lì si decide tutto, quindi è normale che i tifosi abbiano tante aspettative perché comunque una società come il Palermo in Serie B non ce ne sono, però non con il nome, non con i soldi, non con i nomi dei giocatori si vincono i campionati, insomma, nell'esempio il Sassuolo l'anno scorso che ha fatto le cose per bene 3-4 anni e l'anno scorso ha fatto un campionato stervitoso. Grazie Davide, l'ultimo messaggio, credo che siano complimenti, Flavia. Sì, per lui, dice Di Gennaro è un grandissimo giocatore, la grinta e il carattere sono le sue caratteristiche principali, il 10 è meritatissimo e gli auguro di continuare a far bene con questa maglia, ci scrive Gabriele Longo. Va bene, grazie a Davide Di Gennaro, grazie al numero 10 del Palermo, in bocca al lupo per la sfida contro il Cesena, venerdì sera al Barbera. Crepi, grazie a voi, buona serata.